Popoli e religioni a Proda d'Assisi. Sarà la città del poverello infatti ad ospitare l'anteprima della dodicesima edizione del Terni Film Festival. Domenica 2 ottobre alle 17.30 al Teatro Lyric sarà proiettato in anteprima mondiale Il Sogno di Francesco, di Renufeli e Ernalove, con Elio Germano nei panni di Francesco d'Assisi e Alba Rohrwacher in Quelli di Chiara. La serata vedrà anche la consegna ad Elio Germano dell'angelo alla carriera del festival. La Kermess, vera e propria, è in programma invece al Cityplex del Politeama di Terni dal 12 al 20 novembre e avrà quest'anno per tema Vabele. L'iniziativa è organizzata da Associazione Adesso.